buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nella prima parte di questo video andiamo a vedere come funziona phantom un'estensione per browser che funziona un po come metamask ma per la blog cene di solana che permette di interagire con tutte le dapp nella seconda parte invece come anteprima andiamo a parlare di idra swap sempre sulla blog cene di solana ovviamente dopo la sigla prima di parlare di idra swap creata sulla blog cene di solana vi invito a scaricare se volete l'estensione per cromo per il vostro browser di phantom wallet phantom wallet che cos'è è un wallet non custodial esattamente come metamask e però si interfaccia con solana e tutti i suoi dex è disponibile per chrome brave firefox ed edge nella schermata principale vi lascerò comunque tutti i link in descrizione basta che andiate a cliccare su add to chrome e installerete l'estensione di questo wallet che si presenta proprio in questo modo molto simile a metamask per poter utilizzare questo wallet bisogna avere solana per due motivi il motivo principale perché dobbiamo andare a interagire con la blog cendi solana quindi utilizziamo sol sia come metodo di chiamiamo così investimento di operatibilità ma soprattutto per il pagamento delle fiche pur minime il token sol ci serve come gas per depositarlo una volta che avete creato il vostro wallet e salvato mi raccomando e costudito in più posti vi consiglio sempre di non andare a inserire le vostre chiavi segrete in un unico posto per non avere il rischio di perderlo quindi nuovamente io salvo queste frasi segrete in diversi punti della casa per depositare solana è semplicissimo se va su deposit sol si può interagire direttamente con l'exchange ftx oppure inviare solana da un wallet un exchange esterno verso questo indirizzo non dobbiamo far altro come ho fatto vedere in più video all'interno del mio canale si copia l'indirizzo del wallet e lo si va incollare alla voce adrex di un exchange o di un wallet che supporta l'invia di solana una volta che avremo solana all'interno di questo wallet possiamo interagire con i decks in questo vuole è possibile anche mettere a rendita in stake delegato solana questa funzione verrà abilitata solamente quando ci saranno dei token sol all'interno del wallet brevemente noi possiamo anche interagire con i collezionabili possiamo andare a su appare sol con altri token con altre cripto e andare a modificare tutte le impostazioni del nostro portafoglio una volta che sarà installato come estensione non appena si andrà a interagire con un decks una piattaforma che supporta phantom proprio come metamask si collegherà in automatico siamo sulla pagina di idras appunto io ma che cos'è è un decks cross scene intelligente con una liquidità superiore componenti multi chain basati sulla catena di solana ad alte prestazioni ma andiamo a vedere nel dettaglio questo che cos'è questo amm su solana anche se non è proprio come normale amm infatti viene chiamato h mm idra market maker con questo progetto si tende ad eliminare quasi del tutto l'impermanente loss riducendo al minimo le perdite temporanee e massimizzando l'efficienza del capitale con liquidità concentrata con liquidità ad alta concentrazione ovviamente una caratteristica fondamentale è l'altissima velocità di risposta di transazione perché gira sulla cene di solana e costi per transazioni costi per operare che sono veramente quasi a zero sempre grazie alla cene di solana quindi l'idea principale che c'è alle spalle del progetto idraswap è creare un decks intelligente cross chain che aumenti le prestazioni e ne minimizzi i rischi alta velocità basse transazioni cross cene con le principali cene come può essere la bianna sman cene e tiro in cene e così via la sicurezza garantita dall'infrastruttura di solana ma tornando per un attimo alla velocità tanto per capirci una transazione sulla ceni di solana che potrà supportare idraswap sarà di 0,5 secondi in fondo all'home page abbiamo la roadmap attualmente ci troviamo alla fase beta successivamente a ottobre verrà implementata idraswap 1.0 la gestione dei prezzi l'aggregazione intelligente novembre e dicembre ci saranno i ponti per le catene incrociate quindi per la cross scene i ho e l'estrazione unica nel 2022 nel primo quadrimestre i prestiti e il trading con margine cliccando in altra destra su versione beta si apre questa schermata dove noi possiamo già interagire con questo swap vi ho fatto vedere prima come si installa phantom perché se noi andiamo in alto a destra clicchiamo su connetti wallet vedete possiamo interagire con legger solid extension e anche phantom quindi cliccando su phantom come vedete si apre la schermata proprio come se fosse metamask diamo l'approvazione e connettiamo in automatico in alto a destra viene riconosciuto il mio wallet e se poco allora avessimo dei tocchi ed è solana all'interno del portafoglio interagire con questo swap quando su swap come ormai sappiamo possiamo andare a suo appare sol o altri token e inseriti all'interno di questo idraswap con altri token o altre cripto valute vi invito comunque a non utilizzare ad esempio questi token che vedete h is d us d d perché sono dei token test della devnet vi invito comunque a non utilizzare questi token perché come vedete in alto a sinistra abbiamo idraswap beta devnet quindi sono token dev utilizzati per i test prendete atto di queste funzionalità ma non interagite con il protocollo ancora potremmo poi aggiungere liquidità e avere degli incentivi per la fornitura della liquidità per far funzionare l'ecosistema andare a mettere in stecchi al momento h is d che ricordo che il token devnet o andare a fare il farming al momento con la coppia h y s di us d d con una pr dell'ottanta 3,51 per cento successivamente verranno aggiunte diverse valute per lo stechi e diverse coppie per il farming cliccando su trading si apre questa schermata dove noi possiamo andare a scegliere le coppie attualmente supportate per le nostre operazioni andare a collegare il nostro portafoglio comprare vendere caricare il nostro wallet ad esempio con solana se vogliamo operare con la coppia solana usdt e vedere gli order book che sia in acquisto che in vendita e il chart con la possibilità di integrare trendline e grafici a nostro piacimento in fondo all'home page di idraso appunto io possiamo trovare tutti i collegamenti ai social partendo dalla pagina di medium dove possiamo trovare gli dragui delle partnership l'ecosistema le news e tutte le informazioni che gli sviluppatori e gli amministratori del progetto rilasciano su questo social possiamo inoltre trovare il canale di annunci per quanto riguarda l'ecosistema idraso app su telegram vi lascerò tutti i link in descrizione la pagina ufficiale di twitter che conta più di 10.900 follower è il gruppo telegram ufficiale idraso app dove ci sono 9514 membri dove si può interagire con la community e gli amministratori bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento come sempre vi ringrazio per l'attenzione e spero che il video sia stato di vostro gradimento vi invito come sempre ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ma soprattutto ad unire bianca la nostra community su telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e per ricevere il supporto di cui avete bisogno noi ci vediamo domani ciao a tutti 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 ciao a tutti